Siamo con il presidente del GIP di Catania, il dottor Nunzio Sarpietro. Perciò chiediamo, poiché in questi giorni ha dato in esaurimento il libro Sallusti, quello sull'intervista che ha fatto a Palamara, e quindi che Palamara apre uno squarcio sulla vita delle magistrature negli ultimi appunto 10-20 anni. Radiato Palamara, il problema è risolto? Il libro di Sallusti, l'intervista Palamara, ci apre uno squarcio nel mondo della magistratura negli ultimi 20 anni e ci dice come ha funzionato il sistema delle correnti. E' questo il punto. Se queste correnti si sono comportate in maniera legittima o meno. Il libro certamente ci fornisce un quadro desolante sulle nomine, sugli attacchi politici e su tutte le connivenze. Non è che con la radiazione di Palamara il problema viene risolto. La radiazione di Palamara è un atto certamente importante e necessario, ma bisogna approfondirlo. Tra l'altro questo libro è stato scritto e, come ha rivelato lo stesso Sallusti, è stato controllato rigo per rigo dagli uffici legali della Rizzoli Editore per verificare che tutto questo non comportasse una serie di possibili azioni correlatorie da parte degli interessati. Quindi sembrerebbe, come dicono loro, che questo libro dica la verità. E questa verità sarebbe una verità che loro hanno controllato. Per cui io credo che a monte del libro, su tutte quelle dichiarazioni, ci siano conservati documenti e dati circostanziali che appaiono, secondo loro, che appaiono conformi a quello che è realmente avvenuto. Dal libro emerge anche che anche lei è stato toccato in maniera negativa da questo sistema. Cosa ne pensa delle sue appunto disavventure? Io vengo toccato dal libro per una vicenda risalente dall'anno 2014-2015 in poi. E in realtà vengo tirato in ballo in questa storia perché sono titolare del procedimento sul senatore Salvini e quindi il dottor Palamara parla del background che ci sarebbe in qualche misura dietro le azioni giudiziarie verso Salvini. E questo a me interessa poco perché comunque il processo sta avendo il suo corso super regolare. Il fatto che abbia parlato di una mia bocciatura per ragioni correntizie ovviamente mi dispiace tantissimo e per me è un motivo di grande delusione. Però neanche tantissima perché questi sistemi ci sono sempre stati e abbiamo scoperto un pochettino l'acqua calda. Credo però che se è vero quello che dice molta gente dovrebbe fare un po' di autocritica piuttosto che mettersi a sbandierare sempre che tutto è falso, che tutto è una congiura di palazzo e che nulla è realmente successo e quindi come dicevamo prima con la radiazione non è come se si mettesse una pietra sulla cloaca che comunque c'è. Alla luce di tutto questo, quale riforma per riportare la giustizia nel liveo della credibilità? Questa storia di Palamara dovrebbe insegnarci che o si creano dei meccanismi oggettivi che riguardano la carriera, il Consiglio Superiore, tutto l'apparato che gira attorno oppure non ce ne usciamo. In questo senso occorrerebbe che ci fosse una riforma anche di carattere costituzionale se vogliamo, che proponga la nomina dei consiglieri del CSM su base del sorteggio in maniera da tagliare totalmente i rapporti fra elettori ed eletti e soprattutto eliminare il fenomeno delle correnti. Questa è la prima cosa. Tra l'altro poi le correnti hanno anche una valenza un po' similpolitica per cui se non appartiene a quella corrente a volte si innescono una serie di odi che vanno al di là poi del singolo incarico della singola situazione. È come essere un po' quel feghibellini per cui se sei dall'altro lato sei un soggetto da abbattere anche se sei una persona per bene. Allora quindi il sorteggio, riforma costituzionale che elimini la componente politica dal Consiglio Superiore della Magistratura perché proprio bisogna separare totalmente i due poteri in maniera tale che uno sia il potere politico e uno sia il potere giudiziario. Ma questo riguarda una possibile riforma costituzionale. Nell'immediato però qualcosa si può fare e il legislatore ordinario lo potrebbe fare che è quello di fare una legge mediante la quale si stabiliscono con criteri oggettivi oggettivi, ripeto, che non abbiano quindi nessuna area di discrezionalità, i pundeggi e gli requisiti per le nomine, togliendo quindi l'erba sotto i piedi a tutti quei rambanti, giovani o vecchi che siano, che cercano subito di arrivare a posti che non gli competono e spesso con titoli meritocratici talmente scadenti che come dice lo stesso Paramara nei curricula non se ne tiene neanche conto, né pro né contro. Quindi si nomina anche uno che non ha i requisiti per quel posto, potrebbe essere brevissima in altre cose ma non lo è certamente in quei posti per cui non ha un titolo meritocratico serio. Presidente, una domanda perché me la chiedono anche i nostri telespettatori e poi chiariamo anche i nostri telespettatori che sono abbastanza avviliti da tutto questo e che continuamente dicono non vogliamo più la politica nella giustizia e mi sembra questo corretto e quindi chiariamo anche che attualmente come ha detto lei non si può fare nulla perché ci vuole la riforma costituzionale e quindi il Presidente della Repubblica non può sciogliere il CSM. Ecco, chiariamo. Non c'è una legge che consente, la stessa Costituzione che consente al Presidente del Tribunale di sciogliere il CSM. Certamente essendo lui il Presidente potrebbe anche imborre alcune cose che però sarebbe uno strappo costituzionale, non è molto semplice. Io credo che iniziando da questa legge ordinaria di cui parlavo prima si cominciano a pagare gli animi e si stabiliscono delle regole del gioco che non cambiano durante la partita. D'altra parte, ripeto, in un momento così grave in cui quasi quasi è vergogna dire faccio il magistrato, mentre in tempi passati era il fiore all'occhiello delle famiglie o dei singoli dire sono un magistrato, e andare a mettere una pezza grossa, un qualche cosa che sistemi queste nomine. Credo che sia un passo importante da fare subito, solo che in un momento storico in cui non c'è un fair play istituzionale, non c'è una pacatezza nella gestione della cosa pubblica, diventa difficilissimo. Per cui anche quelle persone che potrebbero dire in maniera pagata facciamo questo, facciamo quell'altro, in maniera costruttiva su cui si può essere d'accordo o può non essersi d'accordo, si tirano un po' indietro perché c'è la paura di dover essere poi, che si inseriscono in una serie di polemiche che loro non vogliono. Dico, vi faccio un esempio concreto recente sul Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio Conde, che ho ascoltato come testimone il 28 gennaio scorso, avrebbe potuto invocare mille impedimenti per non rendere questa deposizione. Eppure ha deciso di farlo dando una risposta al sistema giudiziario, oserei dire un elogio dicendo riconosco l'importanza del potere giudiziario e non mi nascondo dieci impedimenti che ci sono. Io ho accettato e sono rimasto ben contento di questo fair play istituzionale e ho fatto le dichiarazioni in cui dico che il Presidente del Consiglio Conde rappresenta gli italiani perché comunque ha dato un'immagine che riconosce la credibilità della magistratura in un momento in cui siamo in una fase di poca credibilità. Per cui io credo che se si potesse in tutte le vicende italiane non gridare, ma semplicemente agire con fermezza ma con educazione nell'esposizione dei fatti e nel modo di esprimersi, quindi riconquistando questo fair play istituzionale che purtroppo mi sembra un pochettino non scelto da tutti o comunque un pochettino dimenticato, e allora nella cosa pubblica si potrebbero migliorare tantissime cose. Occorre solo averne la volontà. C'è o non c'è? Io onestamente non lo so. Per quello che mi riguarda io mi ritengo una persona educata e che accetta pienamente questo fair play istituzionale. Infatti noi la conosciamo e appunto sono parole anche sagge, concrete e soprattutto concrete. Tutta questa vicenda Palamara, diciamolo anche, che ha sollecitato e infiammato gli animi di tutti i cittadini perché sono molti cittadini che hanno subito tante ingiustizie, sono vittime di giustizia e quindi adesso sono in attesa di una riforma della giustizia che forse non verrà mai ma che noi ce la auspichiamo. E infatti mi arrivano queste sollecitazioni per questa povera gente che ha subito tanto processi lunghissimi. Abbiamo il coraggio, il coraggio di dirlo, carte insabbiate, messe sotto, insomma ce ne sono state tante, tante cose che potevano essere evitate. Avverrà, ci sarà una luce anche per i cittadini? La giustizia è gestita in nome del popolo italiano e il magistrato agisce in rispetto delle leggi e in nome del popolo italiano. Io credo che la gente deve stare tranquilla perché la stragrande maggioranza dei magistrati lavora in silenzio con grande professionalità e grande sacrificio e gestisce bene il sistema impositivo ovviamente. Ovviamente tutto quello che sta uscendo da questo libro di Palamara sui fascicoli insabbiati, sui fascicoli tirati fuori ad orologeria eccetera, attiene a un segmento particolare dove la maggior parte degli utenti della giustizia non viene tirato in ballo e non c'è. Però che cosa succede? Che l'effetto negativo indotto da un sistema che nomina ai posti di responsabilità non i migliori determina una organizzazione dell'apparato giudiziario non certamente la migliore possibile e con dei ritardi che ovviamente vengono avvertiti da chi ha il procedimento civile, dalla causa di sfratto alla contravvenzione al codice della strada. Però io dico potete stare tranquilli, non c'è un sistema che crei chissà quale sacche di impunità. Purtroppo c'è un sistema attuale che è un po' lento e se si fanno le riforme giuste, come dicevo prima, ma poi parliamo della depenalizzazione, parliamo della possibilità di avere delle sentenze con delle motivazioni più sobrie come le ordinanze, insomma secondo il famoso sistema francese cosiddetto delle attendue. Allora se si arrivano a queste riforme, le si fanno indipendenti, che poi sono riforme che tutte le forze politiche vogliono fare, però se le si fa in un quadro complessivo e le si inserisce per ogni riforma nel posto giusto come una sorta di puzzle che poi assumerà un'immagine coordinata e gradevole, allora andiamo avanti. Se si continuano a fare delle riforme al di fuori di un quadro complessivo e sull'onda emozionale del momento non si andrà da nessuna parte. E questo è il punto. Bisogna sedersi gli addetti ai lavori e dire facciamo questo, facciamo questo, facciamo quest'altro, indipendentemente da quelli che possano essere gli interessi privatistici o di lobby che possono essere coinvolte in questa storia. Ma ripeto, per creare una giustizia più veloce, per esempio, una depenalizzazione sarebbe la prima cosa da fare perché non ha senso che un ufficio di punta come la sezione GIP di Catania che nel 2019 l'ispezione ha riconosciuto come una delle migliori in Italia e che sforna lavori importantissimi si debba occupare, per dirne una, dell'immigrato che rassegna alla polizia giudiziaria dei dati identitativi falsi. Ecco, non credo che questi tipi di reati debbano ancora essere vagliati dal giudice per l'indanzia preliminare. Fate una giustizia, tra virgolette, secondaria, una giustizia penale secondaria che serve a incanalare tutto questo flusso verso altri giudici specializzati in questi settori ma lasciando i processi importanti ai togati e a quelli che hanno maggiore esperienza. Un esempio col sistema francese ci consente di spiegare un po' meglio questo concetto che è quello. In Francia, per esempio, la cosiddetta cross-examination come l'abbiamo noi per i processetti e anche per guida è stato di ebrezza per cui da noi devono andare i poliziotti a perdere una giornata per ripetere quello che hanno visto nel momento in cui hanno controllato il soggetto. E' impensabile. In Francia la cross-examination è limitata solo ai maggiori crimini, l'omicidio, le violenze sessuali, eccetera. Allora a quel punto vengono chiamate un po' tutte e tutti sono chiamate a dire la loro in contraddittorio. Ma per i processi più semplici non ha senso tenere decine, centinaia o migliaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri davanti al giudice ad aspettare per fare una testimonianza o ripetere quello che c'è già scritto nelle carte. Quando io, parlando con il capo della gendarmeria di inizio, ho esposto questo nostro sistema, lui è saltato in aria dicendo ma io non permetterei mai ai miei uomini di poltrire nei salotti, probabilmente le nostre aule non sono proprio dei veri salotti, di poltrire lì per giornate interi senza fare niente. Ultimo punto, tanto cuore ai nostri telespettatori. Lei è stato pure anche tanta esperienza, primi processi della mafia, lei è un uomo che ha tante competenze. Processi civili, possibile che solo in Italia e nei paesi da terzo mondo debbano durare 30 anni, 40 anni, è una cosa assurda. Cioè ci sarà un modo per poterli snellire e fare un anno primo grado, un anno secondo grado. Vogliamo andare in Cassazione, andiamo in Cassazione, ma un anno, almeno in tre anni, una persona sa che cosa può fare perché sono arrivati al punto, qui gli italiani, che non fanno più un procedimento, io non attivo più un procedimento civile, in quanto finiranno fra 30 anni e che ci sarò più. Quello dell'indezza della giustizia civile è una delle critiche più forti che ci viene fatta a livello europeo e perché rappresenta tra l'altro una sorta di blocco agli investimenti stranieri perché un imprenditore che viene in Italia e dovere poi affrontare delle caose civili che inevitabilmente ci sono, che ti durano 10 o 15 anni, se va bene, costituisce un motivo per dire ma io non mi ci metto in questa cosa. Anche qua ci sono i rimedi, ma bisogna trovarli, bisogna porli in gamble. Ci sono fior di magistrati che hanno grandissima esperienza, che seduti attorno a un tavolo ti trovano rimedi fantastici per accelerare le operazioni. Ripeto, quello di eliminare il problema di una motivazione eccessiva può essere un sistema, quello di creare un sistema di condanna molto forte per chi agisce per cause che sono palesemente infondate, per l'ostruzionismo. Cioè bisogna creare questi strumenti che in qualche misura snelliscono i procedimenti e fanno andare in porto più facile tutti gli altri che sono in lista d'attesa. Poi non riesco a capire perché non ci sia un sistema di supplenza di giudici. Un altro dei motivi di ritardo è legato al fatto che ci sono sempre trasferimenti da un ufficio all'altro, da una sede all'altra e il posto vacante che rimane perché quel giudice è andato via rimane lì magari per anni prima di essere coperto. Allora perché non creare una task force, una sorta di, come avviene nella scuola, cioè di sostituti, di supplenti che vengono chiamati per fare sto lavoro. Magari richiamando per singole attività i magistrati in pensione, i professori di università in pensione, gli avvocati con grande esperienza in pensione curando di mandare al nord quelle del sud e viceversa per evitare poi le dietrologie per cui siamo tutti amici degli amici. Ecco, è una delle cose che si potrebbe proporre, ma lo dico così, insomma più decada magistrato da uomo della strada, è dire a tutti quelli che sono in pensione venite a farvi le cause d'appello, venite a farvi le cause in tribunale che esuberano e che sono vecchie di un certo tipo. Basterebbe dire, la parte che ha interesse, versa una somma, pare, non so, dico 500 euro a sentenza, e voi vedrete che nell'arco di pochissimi anni l'azzerato, viene azzerato tutto l'arretrato che c'è in Italia. Presidente, grazie, sono argomenti che sicuramente continueremo a sviluppare perché penso che adesso, accanto al problema della pandemia, c'è anche in forza quello della giustizia. Allora, è un caro saluto a tutti i nostri interi spettatori. Allora, è un caro saluto a tutti i nostri interi spettatori. Grazie per la visione!